Il pubblico di Montemaggiore in questa serata incantevole, qua da giro, l'organizzazione curata da Nino Navarra, la presenza della scuderia Scozzari. Nunzio Gembelluca in campo, suo artista, è uno stallone prisone, viene dal finale di Pollica. Il pubblico di Montemaggiore in campo. Il pubblico di Montemaggiore in campo, da parte di artista, è un pubblico di Montemaggiore in campo, suo artista, è uno stallone prisone, viene dal finale di Pollica, suo cavaliere, Nunzio Gembelluca. L'armonia, la leggerezza di questo cavallo. Corre, quanto vuoi? Passo, spagnolo. Sono sempre molto bene, ma non è che il pubblico di Montemaggiore in campo. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti